Ciao, sono Martina Villagrossi, ho 28 anni e negli ultimi 5 ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale con delega alla biblioteca. Ho deciso di ricandidarmi con la lista Immagina Pietro Chiaventi Sindaco perché credo nel percorso intrapreso e nell'importanza di portarlo avanti. Ho ancora molte idee e progetti per continuare a migliorare e far crescere il nostro paese. Tutti insieme possiamo di nuovo fare la differenza. Grazie a tutti.